Il progetto dell'Isola delle Femmine nasce una sera al Caffè Internazionale, in cui la mia amica Valentina Greco mi viene a trovare, chiacchieriamo e mi dice che ha un'idea che le sembra molto bella, ma lei non è un'artista. L'idea era quella di occupare l'Isola delle Femmine, parliamo di due anni e mezzo fa, ovviamente a me è piaciuta immediatamente, mi sono esaltata e ho detto se ti va la facciamo insieme, abbiamo cominciato a lavorarci, abbiamo coinvolto altre amiche, o si sono autoconvolte, inizialmente c'erano anche Giuseviani, Marcella Caldas e Claudia Gangemi. Poco dopo abbiamo scoperto che l'Isola delle Femmine era in vendita, una di noi ha visto questo articolo, siamo andati a vedere il sito dell'agenzia, che era veramente divertente, e abbiamo detto ok, è stata una specie di dono, non dobbiamo occupare l'Isola delle Femmine, la dobbiamo comprare, utilizziamo il loro stesso mezzo. E quindi abbiamo deciso di comprarla, ma ovviamente comprarla perché cosa? Comprarla per riflettere, comprarla per fare nascere immaginari. L'idea di comprarla è venuta immediatamente in modo collettivo, eravamo già 4-5, è stato immediato dividere per quote da 10 euro, quindi siccome nel sito dell'agenzia di vendita inizialmente c'era una richiesta di 3 milioni e mezzo di euro, dividendolo per quote da 10 euro, abbiamo pensato ok, dobbiamo solo trovare 350.000 donne. Da lì a cui sono passati un e mezzo, due, di riflessioni, incontri, approfondimenti sui temi che ci interessavano insieme, perché ovviamente si parte da un nome, che è un nome di Femmine, il nome dell'Isola. Nel momento in cui dovevo comprare un'isola che si chiama Isola delle Femmine, parli ovviamente per forza e per piacere e per fortuna di Femmine, saremo tutte donne a comprare l'isola. La conseguenza del progetto dell'Isola delle Femmine, ognuna di noi lo porta fuori come vuole, con i suoi mezzi, con i suoi contatti, con il suo mondo. Il mio mondo è questo, il mondo dell'arte è quello di, fra virgolette, espressione artistica. Per cui ho iniziato a fare tutto un lavoro, tutta una pratica, anche personale, legata all'Isola delle Femmine, con innanzitutto tutta una serie di lavori pittorici o disegni, che sono delle specie di ritratti dell'isola, fatti con tecniche diverse su materiali diversi, dei diversi, come abbiamo da un tela coprente, a una tenda al sole, a una testata di un letto. C'è anche una tela, fra virgolette, normale, di una tela preparata, piuttosto, sono per la pittura. Però spesso mi piace utilizzare cose che già esistono, che trovo, o che danno un senso, anche di quotidianità, necessariamente di linguaggio artistico. Nello sfondo di tutti questi ritratti dell'Isola, io sto scrivendo il secondo senso di Simone de Beauvoir, che è una sorta di enciclopedia del femminismo e ha già più di 50 anni di vita, che io non avevo ancora letto, non ho ancora finito di leggere, perché lo sto leggendo mentre scrivo. Questo diventa anche una sorta di pratica per me, è come se facessi yoga tutti i giorni, tutti i giorni scrivo un po' di Simone de Beauvoir. Nell'ultimo lavoro che ho fatto, mentre stavamo per chiudere, io mi ero portata nella borsa il libro che sto scrivendo, di Simone de Beauvoir, perché volevo utilizzarlo in qualche modo all'interno della borsa, perché poi nel processo di scrittura, ovviamente io intervengo sul libro per segnare dove sono arrivata, dove finisce un quadro, dove inizia un altro, e tutti questi segni che restano sul libro sono legati al quadro che sto facendo, perché se sono, scrivo col marrone, restano un marrone in verde in verde, per esempio, per cui sto acquisendo una sorta di sostanza legata alla pratica. E un'altra cosa che volevo utilizzare da tantissimo tempo, era un'emiglia di Sant'Agata, l'ultimo intervento che è scaturito in due minuti, che però covava da tanto tempo. Altre due cose in realtà oltre ai dipinti, uno è un video, ed è una sorta di video pubblicitario sul progetto dell'Isola, è legato a un testo che può passare sotto il video, oppure come in questo caso, essere scritto, proiettato di fianco al video, che racconta in maniera veramente semplice la base del progetto. Il video invece sono tutte riprese che ho trovato su YouTube, tutti i video rubati da YouTube, rimontati con una musica, che è una canzone femminista argentina. Poi c'è un altro lavoro che è una specie di scultura, è la seconda versione che faccio di questo lavoro, ed è semplicemente una piccola scultura dell'isola fatta a terra. La prima versione l'ho fatta in India, a Delhi, è una mostra che ho fatto a gennaio, e mi ero fatta portare a sei sacchi di terra rossa da Bangalore, fuori di Bangalore c'è un villaggio dove vivono soltanto donne, danzatrici, e quindi lì la terra rossa veniva da questo luogo carico. A me interessava inizialmente la terra rossa perché ti dà questo senso di legame con la madre terra, non si capisce, non c'è bisogno di spiegare tanto, diventa banale nel momento in cui lo spiego, non è molto diretto, e semplice. E qua ho pensato invece di prendere della terra dell'Ecra, quindi abbiamo utilizzato questa terra nera, ma veramente molto intensa, calda, piena di... che si porta dietro un sacco di cose.